Napoli è diventato un luogo in cui si stanno facendo eventi grandi, grandissimi, medi e piccoli. Napoli è naturalmente candidata a essere, come noi diciamo, la città dei giovani, la città della cultura, la città dello sport, la città dei saperi, la città della creatività. Quindi quando ci sono proposte, poi bisogna entrare nel dettaglio e vedere, vengono sempre considerate con attenzione. Del resto abbiamo dimostrato di avere una capacità organizzativa invidiabile. L'abbiamo dimostrato in eventi sportivi che non si erano mai fatti in una città di Napoli, in eventi straordinari come la visita del Papa. Quindi Napoli è una città che da questo punto di vista non ha bisogno di insegnamenti da parte di nessuno e non è seconda a nessuno. Grazie.